Cari colleghi, cari colleghi, sono lieto di partecipare alla celebrazione del centenario del nostro ordine che ho avuto l'onore di presiedere molti anni fa. In questi cento anni la nostra avvocatura è cresciuta del numero, ma soprattutto è cresciuta dalla considerazione dell'avvocatura nazionale. Nel contempo la società è buttata, ha subito e subirà ancora profondi cambiamenti anche tecnologici per cui bisogna adeguarsi. Ci sono nuove responsabilità e nuove conoscenze da avere. È un processo di adeguamento che bisogna attuare. Sono convinto che l'ordine vi supporterà in questo processo di adattamento. Con questo auspicio, con questa certezza, vi saluto di cuore e vi auguro buon lavoro. Ricordare i cento anni dell'ordine di Bari per me è particolarmente significativo perché io di questi cento anni ne ho vissuti più di 50 e li ho vissuti, come si suol dire, intensamente, nel senso che per me l'ordine è stato per anni la mia famiglia e quindi ho trascurato la mia famiglia per l'ordine. Però ho avuto degli ottimi risultati in tema di gratificazione personale ma la cosa che più mi orgogliisce di gratificazione dell'ordine di Bari. L'ordine di Bari è il quarto ordine in Italia ed è un organismo molto ma molto presente ed è stato sempre presente ora e allora nell'organismo nazionale. Oggi ricordare questi cento anni per me è motivo di orgoglio e così come è motivo di orgoglio sentire la presenza di tanti colleghi giovani e meno giovani. Purtroppo c'è un dato negativo, i più giovani voglio dire, che diminuiscono sempre più, il che significa poco amore ancora per l'avvocatura. Mi auguro che questo fenomeno si inverta e che ritorniamo al più presto ai tempi in cui l'avvocatura era il sogno di tutti i giovani, i miei laureati in giurisprudenza. La funzione sociale dell'avvocato rimarrà sempre, sempre immutata nel tempo, quindi nei prossimi cent'anni ci saranno sempre gli avvocati a supporto di chi ha necessità di essere assistito. quindi quello che io posso dire al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere, fare l'avvocato bisogna avere tanta tanta passione, soprattutto in questo periodo difficile, soprattutto per i giovani che hanno necessità di lavorare e c'è una grande crisi economica, però se c'è passione e resistenza ce la faranno. Quindi io mi auguro nei prossimi cento anni di esserci e di poter vedere tutti questi giovani impegnati nella professione. Un augurio grande a loro e al futuro dell'avvocatura. Innanzitutto mi preme ringraziare per l'invito rivoltomi il presidente D'Aluisio e congratularmi con l'intero consiglio dell'ordine per aver opportunamente ritenuto di celebrare i cento anni di storia del nostro foro, perché indubbiamente questo evento rievocativo costituisce un momento importante e significativo di riflessione sulle condizioni e sul ruolo sociale dell'avvocatura. Per quanto mi riguarda, posso dire che a distanza di oltre 55 anni di appartenenza al nostro albo, continuo ad amare e svolgere questa professione con lo stesso spirito di quanto ho iniziato ad esercitarla. non posso ignorare però quanto emerso dal rapporto Censis 2023 sulla condizione dell'avvocatura commissionato da Cassa Forense, soprattutto per quanto riguarda il reddito dei giovani avvocati, tant'è che è stato registrato una significativa diminuzione del numero degli iscritti negli albi di appartenenza. ma proprio i giovani avvocati, nel recente congresso dell'Aiga tenutosi a Bari, nella consapevolezza di tale situazione di disagio in cui versa l'avvocatura, in parte conseguente delle massicce iscrizioni degli albi avvenuti negli ultimi decenni e in parte per le mutate condizioni sociali ed economiche del nostro Paese, ha auspicato un cambiamento radicale della professione anche mercè interventi legislativi e di sostegno della nostra Cassa Forense. Tali interventi comportano soprattutto una diversa organizzazione degli studi, una completa digitalizzazione e soprattutto la specializzazione che comprenda nuove frontiere del diritto. A mio avviso tutto ciò è ispicabile e ineludibile sempre che avvenga senza abbandonare i valori fondanti dell'avvocatura e soprattutto nel rispetto delle regole deontologiche per evitare che una nobile professione come la nostra si riduca ad una, lasciatemelo dire questa espressione, forse non adeguata, erogatore di servizi. Quello che ci è stato insegnato è la fredda determinazione nel difender. Ho declinato questo insegnamento secondo la mia sensibilità, nel senso cioè di non affrontare il mio collega che difende la controparte come fosse il nemico da abbattere. Entrambi facciamo lo stesso mestiere e quello che ci differenzia semmai è solo il garbo, la conoscenza delle regole, la competenza. E naturalmente siamo fatti diversamente e quindi questo accentua le differenze. Ora di rado, in quasi, ormai sono 40 anni di mestiere, ho dovuto pentirmi del fatto di aver sempre mantenuto questo comportamento e sarà questa la ragione per la quale la mia vicenda professionale è stata e continua ad essere per fortuna molto bella, nonostante qualche inevitabile delusione. Rispetto. E' la parola d'ordine che dovrebbe governare i nostri rapporti. Rispetto per i colleghi e rispetto soprattutto per la giustizia. Perché la giustizia, rispetto per la giustizia, fa il paio con il concetto stesso di libertà di un paese, delle persone che abitano questo paese. Cento anni, un'eredità, un tesoro. Il tesoro che ci hanno consegnato le tante colleghe e i tanti colleghi che hanno portato l'ustro al nostro foro con il loro impegno, anche e soprattutto in cariche istituzionali e politiche, li abbiamo di recente ricordati in questa stessa splendida sede. Tesoro che si arricchisce oggi con i nostri campioni, coloro che festeggiano i 50 anni di professione, che con il loro esempio ci danno un grande monito di speranza. Ma il tesoro si arricchisce ancora di più con il lavoro quotidiano che le tante colleghe e i tanti colleghi, oggi come ieri e forse oggi più di ieri, con grande sacrificio, con il lavoro quotidiano, portano avanti l'idea che la nostra professione è un protagonista insopprevibile della giurisdizione. Viviamo un'epoca di cambiamento. Cambia il modo di esercitare la professione, il modo di organizzarla, ma mai dovrà cambiare l'essere avvocato. Potrà cambiare fare come fare l'avvocato, ma mai l'essere, che giace sulla consapevolezza e l'idea che la nostra professione ha una funzione sociale insopprimibile, inderogabile, perché garantisce la tutela dei diritti delle persone. Se, come diceva il mio maestro, ogni società è ricca della ricchezza delle persone che la vivono, l'avvocatura potrà essere ricca nei prossimi 100 anni se ciascuno di noi conferirà ad essa un piccolo dono della propria ricchezza che diventerà ricchezza comune di tutti noi, dell'intera collettività. Auguri, ordine dell'avvocato di Bari, auguri a tutti noi. Porto in me la responsabilità e la bellezza orgogliosa dell'essere stata la prima presidente donna in questo primo secolo di consiglio. Ho cercato di coltivare con gentile autorevolezza, con empatia e innegabile visione femminile, il ruolo che ho avuto l'onore di ricoprire. Non facile, ma sempre al servizio dei diritti della classe forense, anche diffondendo semi di legalità nella società, dove sono sempre convinta che noi avvocate e avvocati siamo i tutori della legalità stessa. Oggi si va verso un futuro che è inaspettato rispetto alla nostra professione, ma per dare consistenza vera ai diritti nella società non dobbiamo mai dimenticare di valorizzare sempre una figura forte, credibile e autorevole di avvocato e di avvocata. Custode del valore più profondo dei diritti, una figura che incarna in sé il diritto costituzionale alla difesa, una figura che contribuisce, che deve sempre contribuire a creare le condizioni per una giurisdizione giusta e per una rinnovata consapevolezza dei diritti al passo con i tempi. Nel guardare all'avvenire, ai nuovi diritti da conquistare per il progresso degli uomini, come diceva John Kennedy, un'ultima riflessione però mi induce a dire e a suggerire che va sempre custodita la memoria dell'insegnamento dei nostri maestri. Perché, come ogni anno facciamo e anche quest'anno faremo, la memoria è un bene rifugio su cui, tassello per tassello, ricostruire il senso di unità e di dignità della grande indomita famiglia dell'avvocatura. Un abbraccio a tutte e tutti. L'avvocatura resta un presidio di civiltà con la sua funzione costituzionale di collegamento e sintesi tra cittadino e potere giudiziario. Oggi, soprattutto, i giovani professionisti si trovano a dover affrontare nuove sfide e a perlustrare le nuove frontiere del diritto. Nel futuro immagino una figura di avvocato altamente specializzato, in grado di governare le novità a cominciare dall'intelligenza artificiale, che per quanto rivoluzionaria non potrà mai sostituire l'intuito e il patos che caratterizzano e caratterizzeranno sempre la nostra professione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.